Amici di Quarta Prete, buon pomeriggio, sono qui al Teatro Manzoni e sono in ottima compagnia con Paolo Quattrini. Fuori piove, ma dentro c'è il sole, Paola. Sì, piove, però è una giornata adatta per il teatro. Sai che dice andiamo a fare una passeggiata? No, andiamo al Teatro Manzoni, dove c'è Paolo Quattrini. Che fa? Che cosa fa Paolo Quattrini? Oggi e già domani, una comedia molto divertente di Willie Russell, ultima regia del grandissimo Pietro Garinei, con la musica stupenda del maestro Trovaioli. E' una comedia dove si ride, ma anche no. Come si dice sempre, si riflette. Sì, si riflette, ti rimane qualche cosa dentro, insomma. C'è tanta gente che dice ma hai raccontato la mia storia, molte donne me lo dicono. Paolo, una battuta velocissima e chiudiamo. Il virus del teatro è stato più forte del Covid. Ma è certo, l'amore è più forte del Covid, per cui l'amore vince sempre, no? E teatro è amore, per cui vittoria. Vittoria. Paola, in bocca al lupo e buon teatro. Crepi, viva il teatro. Ciao.